L'eclissi solare era così interessante, disse un cane che non voleva tornare indietro nel tempo. Il cane era un labrador retriever, il primo a intravedere l'eclissi, in un rifugio vicino a Chevenav. Suo padre e sua madre erano fuori a correre, e mentre era seduto davanti alla telecamera, i suoi occhi si sono rivelati di un verde brillante, e quando la telecamera ha ingrandito e catturato una vista dei corpi celesti, sua madre e suo padre hanno guardato il anche eclissi. I cani erano eccitati. L'eclissi era così grande che gli occhiali dell'eclissi sembravano una sfera d'acciaio. Era così massiccio che il vetro dell'eclissi era così enorme, che si è rotto come il vento. Quindi è iniziata l'eclissi. È iniziato con una luce brillante, come se venisse dalla luna, quindi penseresti che venisse dalla Terra, ha detto. La faccia del cane divenne verde. Quando il cane vide l'eclissi, ho appena saltato su e giù. Sembrava che questa fosse una cosa naturale. Gli occhi del cane sono diventati neri. È come quando salti da cavallo e poi salti in un fiume. Neanche lui era felice. Ero arrabbiato, ma non volevo vederlo, quindi non ho distolto lo sguardo. Era spaventoso, ha detto. Quando lo vide, voleva piangere. La madre cane, di nome Linda, gli diede le stesse parole che aveva quando ha iniziato a piangere. Ne aveva paura, disse. Voleva che restasse e aspettasse un nuovo giorno. Dopo una lunga passeggiata, trova la famiglia seduta sul divano nel soggiorno. La famiglia torna nel loro appartamento con i cani. Sono così felici. Pensano anche che sarà grandioso. Anche loro lo adorano, ha detto. Linda stava cucinando delle uova e disse che erano felici di avere loro bambini con loro. Disse che erano anche molto grati che il cane, di nome Lizzie, venisse da loro. Ha un grande cuore, ha detto Linda. Il cane Lizzie, in fuga dallo scorso luglio, è stato visto l'ultima volta il pomeriggio del 10 maggio. Lizzie abbaiò ai vicini su una passerella, e un vicino uscì e bussò alla sua porta per abbracciarlo. È scomparso da oltre un mese, ha detto sua madre. Lizzie correva, così stanca del suo padrone che correva con lei. Non voleva essere sola. Il cane Lizzie è stato successivamente trovato con. Il giorno dell'eclissi è stato così bello il 9 maggio, i cani erano tutti insieme nel cortile di casa. L'eclissi dura solo circa 5 secondi e nel cielo non ci sono raggi visibili e il sole splende molto lentamente. Il cane Lizzie era così spaventato che non fu mai più vista. Linda era molto triste per il suo cane e raccontò la sua storia alla famiglia. «Ho perso il mio cane Lizzie» disse Linda. Linda chiama la polizia per chiedere aiuto e poi gli viene chiesto se il cane era al sicuro con lui. Il cane si trova vicino al negozio di animali di un vicino, dove il cane è stato visto camminare, ma la polizia non è sicura di correre o no. Linda vuole il suo cane e il suo vicino la sta cercando. La polizia vuole anche sapere se Lizzie ha particolari problemi comportamentali. Linda ha detto che Lizzie è stata in grado di prendersi cura di se stessa dopo l'eclissi. La polizia ha trovato un cane ed è nel cortile sul retro. Linda era così felice quando vide Lizzie, e così preoccupata che l'eclissi avrebbe avuto un effetto negativo sulla sua relazione con il suo cane, fece una promessa a Lizzie il cane di riportarla indietro. Ora Lizzie e Linda vivono molto più vicini. Grazie. 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 Grazie a tutti.